Siamo alla 39esima festa dell'amicizia, l'anno scorso circa 20.000 persone, credo che anche quest'anno sicuramente 20.000 persone è un dato sodato, ma le supereremo perché sia nella parte delle feste che anche nella piazza principale con le attrazioni per delle persone un po' più anziane abbiamo delle grosse attrazioni, quindi ci sarà, penso, tantissima gente che verrà a trascorre quattro giornate in allevrì, è la festa di tutti, benvenuto alla tua festa, è la festa delle famiglie, quindi vengono i giovani, gli anziani, i bambini, è un modo per ritrovarsi, soprattutto in un momento particolare come questo, che casa in piena, diciamo, a ridosso della campagna elettorale, sarà la gente che avrà voglia di ritrovarsi, ma anche di chiedere al politico, perché siamo tutti insieme in questa piazza, chiedere informazioni e soprattutto anche riguardo al proprio futuro e al futuro del Paese. Quindi è una festa dove con cento volontari riuscivano ad organizzare un'imponente festa, quindi il ringraziamento va a questo centro volontari che io ho l'onore di comunare anche quest'anno e che una volta finita la festa di quest'anno già iniziano a lavorare alla festa dell'anno prossimo, perché c'è un lavoro grandissimo, quindi il mio ringraziamento a questi, vi aspetto tutti voi grande di essere presenti in queste quattro serate e adesso darei la parola al settore dell'Aipete, perché è un settore un po' particolare, quindi voglio molto, perché giovani che vengono a partecipare a una festa dell'altro partito è molto importante.